Azione prima! E' un riccio che praticamente arrivato qui non ha trovato un suo predatore naturale, non ha trovato un suo predatore naturale e a via libera sta mangiando tutto, sta distruggendo tutto, sta creando dei problemi a quelle che potevano essere delle aree e narseri per i piccoli pesci e in un certo senso la colpa dell'uomo in questo caso è doppia perché non solo ha introdotto questo riccio ma questo ecosistema così equilibrato, così bello, poteva anche difendersi da solo in quanto qui ci poteva essere un predatore naturale che era rappresentato dalla ragosta canaria che a causa della vita dell'uomo purtroppo è quasi assente, sta scomparendo e non permette al sistema mare di riporsi in equilibrio. Come possiamo noi intervenire su questo problema del riccio? Cioè noi andando a fare snorkeling o andando a fare sub possiamo intervenire facendo qualcosa contro questo persecutore o questo invasore? Attualmente i diving sono autorizzati a contrastare l'azione e l'opera di questo riccio e infatti spesso quando si va in immersione si uccide questo riccio. Tutto ciò non deve sembrare qualcosa di crudele ma è semplicemente un modo per, diciamo, una piccolazione da parte dell'uomo per rimediare a quello che è stato il suo errore fatto in precedenza. Grazie. Comunque se al di là dell'azione dell'uomo se non fossimo stati così avidi, avessimo lasciato la ragosta, non avessimo sfruttato questa risorsa così tanto il sistema sarebbe stato in grado di equilibrarsi da solo. Quindi se ci fosse una regolamentazione un po' più restrittiva, una legge a tutela di questi animali che sono i predatori naturali dei ricci, il sistema sarebbe in grado da solo di riequilibrarsi. Quindi speriamo bene. Bene, buona caccia a tutti quanti, grazie dal Palmar perché cos'è Tenerife una nuova iniziativa per salvare l'ambiente di Canarias. Grazie a tutti.